Interviene Mino Borracino, consigliere regionale di Sinistra Italiana Liberi e Uguali. Esprimo la mia vicinanza al sindaco Ciro Dalò e all'assessore all'ambiente Maria Grazia Chianura del comune di Grottaglie, oggetto di intimidazioni nello svolgimento della loro azione amministrativa necessaria per perfezionare i servizi per la comunità grottagliese. Non entriamo nel merito della procedura della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana. Le intimidazioni cui sono stati oggetto l'assessore del sindaco sono di estrema gravità. Condanniamo queste forme di prevaricazione esprimendo tutta la nostra solidarietà politica e umana a Ciro Dalò e a Maria Grazia Chianura, invitandoli a continuare il loro impegno con la stessa serenità che li ha contraddistinti sinora, certi dell'onesto e trasparente operato istituzionale che caratterizza tutta l'amministrazione comunale grottagliese.